ciao a tutti appassionati anima manga sono aless come sempre in video su youtube su instagram su twitch e anche mi vuoteva prestare sempre aggiornati tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi ando a fare video acquisti della seconda settimana del mese di luglio 2023 cominciamo con la magic press con solo un eco preso dal last game volume 11 prezzo 6 euro e 50 questa è la conclusione di questo di questo manga poi se volete la recensione ci ho già fatto prima pensione scrivetemi qui sotto solita recensione quindi mi raccomando è un manga shoujo carino protagonisti carini anche loro ogni tanto però le situazioni dicono ok adesso sbrigati cioè nel senso è talmente palese svegliati perché tra l'altro non è che hanno 16 anni hanno 20 anni quindi anche ora che si sveglino tra copertina spero che non sia lo spoiler probabilmente anche sì perché è ovvio che ci sia un happy ending vi ricordo che inoltre che al venerdì questo venerdì quindi domani alle 20 qua su youtube ci sarà diretta mi raccomando non mancate la diretta parlerò ovviamente dei prossimi fumetti questo brani dada adventure il volume speciale che sarebbe da leggere dopo il volume 5 e il volume 7 edizioni bd prezzo 7 euro e 50 all'uno se avete visto il mio video dedicato di domenica vi lascio qua sopra il link mi è piaciuto tantissimo molto meglio di parecchi manga che stanno uscendo ultimamente delle novità e quindi tanta roba vi consiglio andare a prendere oltre manga ma anche rivedere il mio video per se siete curiosi e per fare un'idea perché merita merita tanto poi passiamo alla star comics con shirayuki dai cappelli rossi numero 22 prezzo 5 euro e 90 shoujo sentimentale però anche fantasy non è non è che è centrato solo sul fatto del sentimentale ma ci sono anche altre storie e soprattutto ambientazione fantasy amo il fatto così come data adventure che fa così e quindi ecco a me è sempre piaciuto fin dal primo volume mi ha colpito molto e quindi sono felice di continuare anche perché sono al 22 quindi vuol dire che se sono a questo punto dire che mi sta piacendo poi sempre star comics con gate volume 17 6 euro e 50 è un isekai inverso cioè nel senso che c'è solo un portale non è proprio inverso c'è un portale e quindi si può fare avanti e indietro dal nostro mondo a quell'altro mondo che ovviamente è ambientazione fantasy non sei rincarnato però è ambientato nel nostro mondo e puoi andare avanti e indietro quando vuoi quindi portare armi e occidentale e volute come mitra carri armati elicotteri in un mondo comunque tardo medievale ok che c'è la magia ci sono i draghi però ecco è un'altra cosa e quindi è una situazione molto situazioni molto particolari ovviamente anche qua ci sono diversi waifu e l'elfa è immancabile però ecco anche protagonista personaggio principale è abbastanza caratterizzato molto molto bene poi novità di castar comics gigants volume 1 prezzo 6 euro e 50 vi porterò ovviamente la prima impressione facendo rimanere in stile disegno capite comunque ecco isola di tushima nella provincia di nagasaki gen un liceale che vive insieme alla madre e alla sorella minore malata strascorrendo martinata come al solito ma per colpa di un essere sconosciuto apparsa all'improvviso su cui l'esistenza cambia elasticamente in un attimo infatti quella mustruosa forma di vita che ingurgita simile alle persone si impadronisce nell'intera isola quel giorno il trono dei nominatori vi è predato inizia così una storia di fantascienza e sopravvivenza in cui si viene divorati dalla disperazione non so non so non so aspettarmi survival game parasite un misto vediamo 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 ecco sono curioso come cui porto la prima impressione che uscirà probabilmente settimana prossima sempre star comics passiamo miracle girls volume 4 8 euro della star comics da nuova edizione un po di magia per te rimeggi per chi per chi conosce magari l'anima il cartone animato meglio lo conosce meglio così e quindi ecco sono appassionato comunque comunque mi ricorda la mia infanzia degli anni 80 fine anni 80 e fine anni 90 quando comunque questi questo genere spopolava questi questi cartoni animati spopolavano e quindi ecco li prendo perché me lo ricorda tantissimo la mia infanzia e come mi ricordo le mie infanzia non parlare di dragon ball questa ultimate edition volume 15 prezzo 15 euro della star comics e tanta roba questa edizione prezzo assolutamente irrisorio rispetto alla qualità comunque ci ho già fatto video dedicato a questa nuova edizione quindi fate un salto se volete dare un'occhiata se volete dare un occhio ma fidatevi se non avete mai preso dragon ball mai letto ma io spero che l'abbiate almeno visto perché è una pietra migliare c'era un prima un dopo dragon ball approfittate ovviamente c'era evergreen che va sempre bene passiamo adesso a jpop con mononogatari prezzo 6 euro e 50 tema yokai oggetti che dopo anni di vita vissuta hanno uno spirito dentro il sé cioè si crea un'anima interno di questi oggetti però questi oggetti possono essere sia buoni che cattivi e ogni tanto interagiscono con il nostro mondo e fanno già un marachelle marachelle è un eufemismo però ecco quindi vedremo comunque scontri e ovviamente degli esorcisti che cercheranno di proteggere gli esseri umani esorcizzando questi esseri che alcuni sono alleati e alcuni no vi da anche questo ci ho fatto la prima impressione o come di tutte carino ecco per ora è carino ecco non è un unico manga che dico che è leggetto a tutti i costi però se non a me piace gli yokai comunque spiriti in generale tra i molteplici che ci sono è uscito questo quest'anno ovviamente la kokun penso che sia imbattibile ecco di quel genere lì con quelle tematiche lì penso che per ora quello più bello che mi sta piacendo è una kokun e ecco quindi prendete quello perché merita merita tanto poi altre novità di cioè novità altro volume di Dan 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 di J-pop prezzo 6,50 euro dato il retro copertina pazzesco Dan 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 comunque è uno di quelle poche novità che mi sta piacendo e mi sta piacendo comunque poi disegni i nostri disegni è pazzeschi i disegni andiamo a fare spoiler comunque pazzeschi il linguaggio e lo slang è molto giovanile molto adatto al contesto belli scontri belle battaglie personaggi protagonisti caratterizzati molto molto bene e comunque mi sta piacendo un sacco poi novità di J-pop The War of Grady Witch Prezzo 6,90 ovviamente volume 1 Giovanna d'Arco celeberrima eroina di Francia pochi istanti prima di perdita la vita su Rogo viene scaraventata in un mondo in cui 32 donne tra le più trepide della storia identificate da tutti come streghi sono state riunite con un scopo ben preciso partecipare a Walpurgis un torneo all'ultimo sangue che permetterà alla vincitrice di realizzare il suo po' grande desiderio Walpurgis mi ricorda la vita da slime va beh sti disegno interessante carino diciamo che è quello che va per la maggiore c'è nel senso tutti quelli nuovi mangaka che escono dalle scuole più o meno hanno questo sti disegno qua è un torneo quindi strizzerà un po' l'occhio a Record of Ragnarok probabilmente comunque il quest ci porterà prima impressione poi vi saprò dire probabilmente ricorda molto Record of Ragnarok da vedere un po' così però vediamo sempre Gipo la nuova edizione da Ima Hero volume 16 prezzo 6,90 euro ma io sapete Ima Hero avevo fatto prima impressione ma aspetterò la recensione perché un po' alti e bassi secondo me e voglio sono davvero curioso che vuole andare a parare perché mi posso aspettare qualsiasi cosa non so davvero cosa aspettarmi e sono curioso poi un altro Isekai di Jpop Game of Famiglia numero 9 prezzo 6,90 però questo è molto cruento molto crudo molto dark sia a livello di splatter ma anche a livello sessuale se così vogliamo dire però ecco è molto forte diciamo è un seinen questo non è proprio uno shonen però mi è piaciuto ecco forse proprio quella matrice dark che 18 nisekai c'è poco però ecco l'ho apprezzato soprattutto perché ecco qualcosa di diverso anche il protagonista non è quello il buono del turno ma anche una mente molto particolare che l'unica cosa che conta è proteggere la sua famiglia e è disposto a tutto anche sacrificare alleati sfruttare qualsiasi cosa per salvare la sua famiglia quindi ecco il protagonista molto cazzuto è uno dei protagonisti migliori degli Isekai secondo me continuiamo con Jpop e finalmente esce Freeran volume 10 prezzo 6,50 di Jpop guardate qua stupendo e solo con la prima tiratura quindi affrettatevi c'è questo in omaggio fantastico mamma mia tanta tanta roba guardate com'è bella sta cosa ma comunque Freeran è tanta tanta roba sia come personaggio ma anche come manga guardate qua copertine pazzesche tutte le volte magia fantasy e davvero non vedo l'ora di vedere questo scontro tra lei e questo demone che davvero è da mesi che sto aspettando di continuarlo e fidatevi Freeran è da prendere a mani basse sia per chi ama il fantasy anche per chi non lo ama ma soprattutto per chi ama il fantasy perché ha un classico fantasy puro mamma mia pazzesco questo manga è iniziato lento col primo volume poi via via è andato sempre più veloce tanta tanta roba poi passiamo sempre con blackjack volume 14 il penultimo prezzo 12 euro ovviamente la usamushi collection di usamutezuka e ovviamente quando finirai porterò la recensione ci ho fatto solo la prima impressione ma ovviamente uscirà la recensione e dopo letto questo e altri che stanno uscendo di usamutezuka quindi verso fine anno farò la mia top 30 di usamutezuka quindi mi raccomando continuate a seguirmi se ancora avete fatto mettete like perché non vi costa nulla e iscrivetevi perché anche lì non vi costa nulla ed è un modo per supportare il canale e fammi capire che state apprezzando soprattutto quando ci sono video particolari mettete like per farmi capire e commentate per farmi capire che volete altri video di quel genere passiamo alla planet manga con Shangri-La frontier volume 9 prezzo 5 euro e 20 e ho basato tutto su un videogioco cioè vediamo praticamente questo videogioco siamo nei panni del protagonista un po' come Southward Art Online e anche se qua il protagonista può andare avanti indietro quando vuole può loggarsi o meno dal videogioco però ambientazione anche qua fantasy e ecco per chi è appassionato di questi videogiochi probabilmente gli piacerà anche questo manga poi passiamo con Fire Force 33 penultimo volume edito da Planet Manga ovviamente prezzo 5 euro e 20 non vi dirò nulla aspetterete quando sarà conclusa la recensione quindi però è un shojo molto bello anche le battaglie i personaggi certi personaggi sono davvero pazzeschi e non sono il protagonista passiamo novità per Planet Manga Yomi no Tsugai prezzo 7 euro questa è la variant della Arakawa manga di Arakawa quindi stessa autrice di Fullmetal Alchemist quindi questo disegno è inconfondibile pazzesco cioè non è pazzesco non vedo l'ora di leggerlo vi porterò la prima impressione domani questo in un villaggio sperduto tra i boschi dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla una grande oscuro segreto coinvolge i due abitanti i fratelli Yuru e Asa e trasformerà un'ora di pace in un terribile campo di battaglia ma non vedo l'ora di leggerlo quindi sarà il primo che leggerò e poi vabbè ci preparerò la prima impressione che uscirà venerdì poi altro Jikai tanti Jikai vabbè Mokushoku Tensei Job and Reincarnation volume 18 prezzo 7,50 euro è un Jikai seinen molto maturo questo devo dire anche il personaggio protagonista è molto maturo fin dalla sua prima apparizione e si vede l'evoluzione la crescita di questo personaggio ma anche degli altri personaggi e soprattutto tratta tematiche molto importanti molto complesse molto attuali e come ho sempre detto è uno tra i miei migliori Jikai e fidatevi che ne vale assolutamente la pena poi ancora un altro Jikai perché o mai settimana di Jikai questa Konosuba volume 15 prezzo 5,20 euro si prende lo prendo per lei per Megumin ma soprattutto perché è uno di quelli Jikai no sense molto comico pieno di waifu ovunque tutte sono waifu quindi ce n'è per tutti i gusti io Megumin tutta la vita scrivetemi qui sotto qual è la vostra waifu di Konosuba e Konosuba sapete mai che lo adoro poi ho iniziato a recuperare come sapete Assassination Classroom il 2 doveva ancora arrivare quindi ho preso il 3 il 2 arriverà intanto aspetterò quando sarà completo per leggerlo e il tuo Planet Manga prezzo 5,20 euro poi recupero che ho fatto volume unico di Pollen la serie completa 16 euro della Magic Press volume unico quindi volevo Pollen anche qui perché mi ricorda la mia infanzia sembra talco ma non è quindi ecco non potevo non prendere questo volume unico e mi ricordo anche qua la mia infanzia se volete la recensione scrivetemi qui sotto nei commenti vi ricordo che domenica uscirà la mia top 10 degli Spocon quindi i miei 10 Spocon preferiti quindi attivate la campanella noi ci vediamo ai prossimi video mi raccomando iscrivetevi a tutti i miei social a tutti i miei social a tutti i miei social a tutti i miei social